Ah ma com'è qua che abbiamo fatto Un pochettino di off camera È bellino guarda che bellino che è Un po' di pulizia generale e capito Ambo intanto puoi metterci dimensioni naturali a tutti C'hai ragione Ma anche oggi c'è quella roba delle dimensioni Sì anche oggi diventiamo più piccoli Mai diventare più grandi No Ragazzi sotto c'è il gol Tra 5 sub diventiamo già più piccoli Poi con le donazioni e tutto quanto si è sempre più piccoli Attiviamo Le penitenze ma io mentre sto mangiando Quindi non approfittate Ma il titolo è real e dopo c'è CS Se vuoi sì E allora Un po' di più più Thanos Certo certo Devo fare un rituale Ok Ok allora faccio una cosa ragazzi Sono dentro Tano Io mentre mangio Tano si muoverà al posto mio E quindi niente Questa riprenditenza se la suga Tano Tano muoio Tano muoio Tano muoio Oh aspetta Sei un essere in Guardi Dai ragazzi Hai fatto morire Ambo Facciamo i seri ragazzi Per favore Guarda hai distrutto tutto il mio off camera Per favore facciamo i seri Ciao Grazie mille Aspi Ragazzi non mi ricordo come si gioca a Minecraft Premi Wast No no ma sul serio È tutto così strano Ma perché cosa hai giocato in questi giorni No nulla Però è Minecraft Ragazzi qualcuno può sparare Tano nell'iperspazio Vuoi dare la sua visuale per una volta Minecraft Tano vedi comunque Nella serie adesso hai anche le statuette che ti Come sono arrivato qua? Ci muore È morto già Come sono arrivato qua? Come sono arrivato qua? Ne ho minuto di tempo Io mi sono girato Io l'ho visto che era qui Mi sono girato Mi sono rigirato Era scomparso È un mago No raga Ho chiuso gli occhi un secondo tipo Vabbè Allora Cosa ti fa oggi? Mi ha avuto un blackout bro Sì penso che Ma hai bevuto? Che ogni tanto Ok quindi no Perfetto No 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 È uscita così da fabbrica Non c'è nulla di strano dentro Meno male È di troppo strano E come vedi adesso C'è una È tutto sistemato bellino Almeno abbiamo una base no? Le crafting La cosa attaccata Qui c'è un refill di cobblestone Se ti servono blocchi Questo è lo smistamento quindi? Sì sì però adesso È lo smistamento a palla Se vedi qua C'è lo smistamento da 100 euro Versus smistamento da 1 euro 1 euro esatto È il tuo è quello da 1 euro È dell'infondo penso Beh Non c'è nulla là Infatti Una torcia È una torcia 1 euro costa Basta Non ci puoi più fare nulla Se le vai a rubare in chiesa Sono gratis Vabbè andiamo Vabbè Qui vedi Se vedi Se prendi la cobblestone Si autorefilla instant Guarda È visto? È vero sì Quindi se servono blocchi Ho fatto cadere il microfono Se servono blocchi Terremote con i free game Che succede? Sì sì Non ti preoccupare Sì quindi Se ti servono blocchi Da costruzione Qui c'è la cobblestone Prendi e vai Ok Imponente questa cosa Andiamo avanti Oggi Come vedi Ho fatto un po' di pulizia È volata una L'hai vista volata una L'ho vista anch'io Ho visto qualcosa Che ha fatto puff Vabbè Ho fatto un po' di pulizia In giro Oggi facciamo la pressione Continuiamo la pressione È vero? No non ce la faccio Sotto pressione lavoro male Vabbè ma dobbiamo continuarla Amica devi Cioè ce l'hai già Vabbè ok ok Un passo alla volta si può fare Cioè ce l'hai già Non è che Devi Già in questo momento Ce l'hai Quindi stai a posto Stai lavorando bene Mi fido Mi fido Stai lavorando bene Non lo so Mi sto lavorando bene Lo chiedo io a te Non stai facendo nulla Tano secondo me sì E allora mi stai criticando No non stai facendo nulla Quindi non ne rozzo nulla Quindi è tutto a posto Ma io so che facendo troppo Ti sto ascoltando Ah giusto è vero Mi sono ricordato adesso Ho fatto i paxos Tieni Questo è ascia piccone Ascia piccone e brucio tutto Pala Sì sì puttani Poi c'è anche per M Ma è che accetta In questo momento è un Sì sì In questo momento è un fantasma Sono un Fantasma Fantasmino che Gira in giro Ho la musica troppo alta Aspetta Hai i fantasmini? Sì i fantasmini Sai quelli di Super Mario? Ah non Ok Vabbè No 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 Tano Anche perché fa caldo Ti rendi conto? Io non ho capito comunque cosa si deve fare Sono qui da troppo tempo E non ho capito Si aprono le quest Si aprono le quest Si aprono da 5 minuti in questo mondo Si aprono le quest Io? Si E Ho messo tutto in Strength Io ho messo tutto in Strength e in Scavenger Ah ok Allora capisco tutto In intelligenza Ho messo tutto in intelligenza Non ti credo molto Però facciamo finta che sia così Andiamo Apri il libro Hai mai aperto un libro? Si Ok Quindi apri il libro in alto a sinistra Delle quest L'ho fatto L'ho fatto Ok E dobbiamo andare su Under Pressure Ci sono Ricordi? E cosa si deve fare? Si si certo Si si deve rifare la Pressure Chamber Quella struttura 3x3 Che esplosa Esatto Cioè tu off camera Ti sei rimesso a rifare lo smistamento Con i diamanti così Ma non hai rifatto quello che è esploso Certo Classico napoletano C'è un problema No E' qua dentro E' qua dentro Io solo prendo i blocchi e piazzarla Tu Io No Tano Io Certo Dai non c'ho nemmeno spazio nemmeno inventario ragazzi C'ho 5 blocchi Vuotati Ci sono le ceste Tano per favore Giochi a Minecraft da 12 anni Non solo Tano Ha ancora questa storia Chi sei? Dai dimmi il tuo nome Allora Prendi i blocchi Dove stanno? Eh te li sto a prendere Perché tu non sei cieco No Ok l'ho preso Cosa sei? Sono Tano Dai andiamo Ok Com'è l'assemblo questa cosa? Com'è l'assemblo? Un 3x3 L'hai visto l'altra volta? Sì ma chi se lo ricorda? Dai Vabbè tu intanto fai un 3x3 Ma poi è passato ai blocchi differenti Vabbè dai Lo metto a caso qui? Tu fai un 3x3 di quello Vabbè Ho paura Questo è di troppo Quello Sì Vabbè Ma poi perché Tu tra tutti i posti in cui poteri metterlo Tu me l'ho maledetto Tu mi hai detto dove volevo Eh Lo faccio qua dietro Bravo Qua va bene Qua va bene Sì sì qua qua Sì sì qua Cioè passiamo Cioè Ambo Sì più specifico Sessamente Ho sbagliato io Ho sbagliato io Ma è un 3x3x3 Per 3x3 Sì Per 3x3 Col centro vuoto eh Esatto Eh per forza Un po' di troppo Qualcosa di troppo ci sta sempre Ok E mo Aspetta che ho un problema Eh Devi mettere La valvola di lato La valvola C'è scritto valv Ok sì Eh Eh per forza Certo certo Di lato Ok e poi Dall'alto Quindi fai una scaletta Ok Questo non ci deve essere Devi mettere I due Input output Io I Slasho Askes point Vabbè Quei blocchi con il sopra Nulla di simile Sì che te l'ho dato No tu non mi hai dato un cavolo Pressure chamber interface Te l'ho dato perché Non so parlare No Ciocio Ah Ma non è blu No no sono io perché È blu Vedi che è blu Però Sì ma non è Nella cosa della miniatura Non è blu Esatto Il problema è quello Aspetta un secondo Che ti faccio anche il vetro Serve i pannelli Perché ho pannelli io Eh? Ho i pannelli Ne ho un blocco Beh allora Niente blocchi No no Questo qua Questo qua Devi mettere Ah ok allora Ce l'hai delle ceste Degli hopper Ma Ok Vedi abbiamo lavorato Dovremmo tipo Riparare questo buco Magari No Non c'è bisogno Perché hai messo sta roba Eh? Nulla nulla Tranquillo Io l'andrò a riparare Ragazzi Che si fa Che si fa Io l'andrò a riparare Sì Possiamo tipo Riparare il buco Sì ma Ma serve Il Capito Il che cosa Dai non lo so Qualcosa per riparare veloce E la La wanda Metti la La wanda E fai Ma la wanda Qual è il tasto bello? Eh? Ah raga C'era un tasto Raga Non mi ricordo Non mi ricordo come si gioca C'era un tasto Sto C'era un tasto Usa le mani Io mi sono pronto Di usare le mani Però eh Eh Che puoi usare? Non lo so Uno strumentopolo Qualcosa Misterioso Oh è arrivato Che ci vende? Voglio Ah io Non ho cibo Non ci vende nulla Vuoi cibo? Ti No no Non avevo nemmeno fame Non so perché l'ho detto Perché hai fame Allora ragazzi Sarò incinto Lancia una sfida Vediamo se Tano Muore tra Cinque minuti Cioè Entro 40 No no Ma poi guarda che io Allora Considero una cosa Perché Noi scherziamo Tutto ma non ci si pensa Mai queste cose Sì Questo qui è un mondo Di base È pericoloso Insomma Magari l'Italia Non particolarmente Però il mondo In generale Sì Vedi anche l'Australia Animali È un pianeta Abbastanza ostile Poi siamo una specie Dominante Però intanto Ci scaniamo tra di noi Quindi Oh sì Se sono riuscito a sopravvivere Quasi 30 anni In questo mondo Cioè Ho uno spirito di sopravvivenza Abbastanza buono Sì Non con i miei gattini Che si fanno toccare Tutti i sconosciuti Che passano davanti a casa Quindi Cioè In cinque minuti È difficile Crepare così Tano Potrebbe esserci Qualche forza Sovranaturale Può prendere Le ho già sconfitte Le ho già sconfitte Tutte Ah sì 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 Io ho anche I fantasmi in casa Cosa C'è problema C'è problema C'è problema Ho risolto tutto Tano dove ho messo la valvola Qua La valvola Che valvola Ma io non ce l'ho mai avuta Quella roba Non so di cosa Valve L'inglese Eh no ma l'ho capito Che non l'ho capito Eh me Tieni il password Grazie mille gentilissimo C'è i tubi Della pressione No Io ne ho tre Guarda Meno male Contribuisco a sistemare l'isola Sì Intanto bisognerebbe mettere altri pressure Eh chi ce l'ha questi pressure Ma non valore mi sa L'avrai salvati con il Costano Certo Hai visto Non hai fatto Eh colleghiamo Mettiamo circo al dentro Fatto E la La chamber funziona No Spero Spero No Non sta Non sta Non sta andando Capo Eh adesso si Mettiamo lo spiatatoio Ah vai E lei si riempirà Piano piano Mentre facciamo le nostre cose Tipo Quella parte dell'isola È tutta bucata Vabbè Ha passato un brutto periodo Ci sta Quella Quella colonna di lava Che ne abbiamo fatto? La lasciamo per ora Quella colonna di lava Non possiamo fare Una seconda live Dove andiamo a svuotare Però se capita Un atto sulle crudele Dovremmo farlo Per forza di cose Certo Questi Questi rimarranno Eh rimarranno qui Certo Sono bellissimi Sempre meglio di quelli volanti Hai ragione Tano Però Qual è il flucco Della live di oggi? Il flucco della Slice C'è la Appunto la La pressione chamber E dobbiamo andare a creare degli oggetti Utilizzandola Esatto Ok Seguendo le quest Ovviamente Seguendo le quest Il nostro obiettivo è fare tutte le quest Mettiamola in questo Dobbiamo completare questa pagina oggi? Sì Ok Facciamo tutta questa pagina E ci servirà tutto L'armatura Potrebbe essere l'ultima cosa che facciamo Perché Ok 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 Allora Iniziamo Dal Fare La plastica Che non è segnata Eh no Però serve La pneumatic craft Ho visto Una roba simile La La cosa Della 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 Non mi ricordo Allora Serve La termopneumatic processing plan Sto un attimo vedendo Tutto il bordello che Sì È un po' lunghino Però Ce la possiamo fare Noi Dobbiamo fare la plastica Ok No perché a me dai tipo I brick di costruzione Che si trascano Però Adesso ti mostro Dobbiamo fare il liquido di plastica Perché Se tu Prendi il liquido di plastica Molto in plastica Non so perché Ma si solidifica Ok E diventa plastica Ok Cioè so perché Ma si mette due secondi Quindi Quindi Dobbiamo fare la molte in plastica Però vuole il biodiesel O il O il biodiesel O l'LPG Però noi abbiamo già il biodiesel Dell'immersive Quindi Quindi abbiamo soltanto Dobbiamo fare il termop Maffi Grazie per i quattro anni Oh Ok Buonasera Guardia di finanza Paxel è anche un'arma Ti ricordo A posto Ok 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 Quindi noi possiamo usare il bio Fuel che abbiamo Biodiesel che abbiamo Per fare plastica Però ci serve il termopneumatic processing plant Che ho visto Che comunque Non è difficilissimo Ho visto Sono tutte cose che abbiamo In teoria Penso tu abbia tutto Soltanto Infatti aspetta Sai cosa Sai che ci serve A noi un sistema Comunque di crafting Unito Perché se no è un bordello Però Possiamo fare questa cosa Aspetta ma ti mostro Guarda Ma la transmutation Con la crafting Non c'è qua Non c'è ancora Però adesso Cioè ci sarà più Ok Allora perché già di base Serve questo Che lo trasformiamo E ce l'abbiamo Se faccio così Il tubo Se si collega tutto Alla chest C'è la crafting Penso di sì Quindi se tu hai Gli item Nelle crafting Lo userà Allora mi serve Soltanto Dell'iron Per fare qua Le barrette E in questo modo Posso fare Due di questi Che mi permettono poi Reinforced stone slab Ma io l'ho fatta Ah Intanto Ah no Reinforced brick Sono questi Ambo come si fai Reinforced stone Ah ok Con la stone Perfetto Tu mi fai L'uv light block Light box Ok È facile È molto veloce Non dovresti avere Intoppis Ambo Io ho fatto il macchinario È stato molto semplice Devo dire Hai visto Facile facile Adesso dobbiamo collegarci Il biodiesel Bio Non si può mettere dentro Con un secchio Mi sa ti sia Sì 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 Ma va a corrente Cosa va a pressione Forse non Forse gli serve pressione Perché la mod usa molto pressione Quindi tu collegalo a un cavo Vediamo se va Ah sì La pressione Questi stanno per esplodere No c'è la valvola C'è la valvola C'è la valvola che è sfiata Qual è il problema Con calma Ah vedi quanta tranquillità stasera Visto Quindi questo qua sale di temperatura Fa il suo lavoro Quindi dobbiamo prendere il biofuels Ma signore Ho un problema Io La glowstone La glowstone Eh adesso Vedi era l'unica Pecca che Ovviamente stavo pensando Ma non ho venuto La glowstone Ha scorreggiato Però dobbiamo ottenere sto rumore No allora Dove viene anche una cosa Come ci si mette la roba dentro La send nel coso che gira Questo è uno semplice E ti è arrivato il biofuels Perché serve call Ok Però Cosa devo fare adesso C'è devo premere Moon fluid Cioè perché non funziona Perché deve essere temperatura Minore o uguale a 100 gradi Eh il call ce l'ha Mi provo a fare Move Move No Non aumenta la temperatura Capo Problemi Dice Ah giusto Che cosa Ah Cosa Ok rimetti il biodeaser Allora se tu mi tappi qua di lato È un casino Prendi il biodeaser Allora prendi il biodeaser Ok Clicca sulla macchina Ok Ok puoi farm Vai Faccio Dovrebbe andare adesso Faccio il play Sì Sì Perché il fatto è Che dovrebbe andare Solo che Non mi ricordo Dice che Non ha Add some valid ingredients Ah Non serve il charcoal Dicono che Però non serve Però la pressione C'è dentro Serve il charcoal Ok Non serve il coal Era facile Però dicono che non serve La pressione Per questo Vai Eh però Però a destra c'è Non lo so Però è fermo lì Forse indica la temperatura Sì Forse serve per Solo aumentare la temperatura Non ci interessa Usiamo il charcoal Qualcun altro charcoal Sanno Oppure dobbiamo farlo Non penso Di averci Tocca farlo Ambo Andiamolo Usiamo una fornace Fatto Vai Aspetta Con le penitenze Punto esclamativo Dono in chat Hai il link Con il link Poi fare una donazione In base a Quanto doni Attivi la penitenza Oppure con i bit O con le sub Ok vai Messo Ah come è spiata Però sto rumore È un po' fastidio Sì Allora Messo Procedo Sta andando Dice Molto in plastico Dice che Richiede più di 100 gradi Come più di 100 gradi Minore o uguale a 100 gradi Prova a playare Ah no 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 Servono blocchi che c'erano Al calore attorno alla macchina Ecco a cosa servono i blocchi Mi ricordavo Vabbè ma Forse serve la lava Metto sotto la lava Scusami Sì si metti sotto la lava O di lato Dove serve qualcosa di lato Ok Eeeh Guarda qua A posto A posto Più di ciò che si metti a fare a massimo Mi arriva al 500 Ok 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 Ha fatto Ma tu hai giunto Altro tubio diesel C'è con uno Adesso tu prendi una molto in plastic Ok, prendi un bucket Ok, lo metti a terra A terra proprio? Ecco qua È un po' troppo rapido, però Vabbè, sti cazzi, è meglio Vabbè, ma qual è il problema? Ci lamentiamo? No Mi dà fastidio il fatto che, capito? La mod è tutta ingegnere Ma smettila Due secondi a A fare la plastica Ma sei stant'imidioso Eh no, perché adesso vedi che dobbiamo fare Allora Abbiamo fatto ciò Quindi abbiamo fatto la plastica Con la plastica Ora raga, ora Dobbiamo farci Allora, un attimo, ragazzi Vado un attimo di là che prendo una cosa e posso anche i piatti Io sto fk Sì, ma non accanto a cose buone Io sto fermo qui Perché non ho paura Non capiterà niente Adiei Eh, signor Rambo Abbiamo un mesh a disposizione che posso utilizzare Ho fatto l'emerald mesh Per la glowstone No, sono bloccati quei mesh Cosa? Devi usare il sifter della create Ma c'è scritto che funziona C'è scritto, ma non puoi usare Non puoi creare il mesh Non si può creare Non si può creare proprio il macchinario Ma quindi, cioè, se ci provo sto buttando via il mio tempo Sì Ma se lo faccio lo stesso sono uno scemo che proprio è Sì, perché non c'è il crafting Cioè, se cerchi tipo mesh È vero, hai ragione Cioè, non mesh Vabbè, hai capito Non c'è il sieve Sì, il sieve non c'è E che cavolo Questo è un problema Eh 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 E guarda come si fa Serve l'altro sieve Serve il sifter della create Così ci vedi Sifter Cioè, anche se Ragazzi, ma che state facendo? Sifter Il sifter, il sifter, il sifter Ah, sì Ce l'hai salvato, in teoria Ma sta a posto Ah, sì, 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 sì Era per salvarti, eh Ma da che? Non hanno fatto nulla Allora Ce l'hai, te l'hai un sifter, Rambo? Salvato Sì Penso ti basti Ce l'hai io, il sifter Ok 64, penso ti basti Devi fare ovviamente tutta la corrente Sì, sì Ora valuto La motorizzazione, ecc Ok Io ho la plastica, Rambo Tu hai la plastica Nel mentre che Tano fa le sue cose Vabbè Cose sue da Tano Noi andiamo avanti Con le quest Facendo l'empty PCB Che penso sia un Certo Inizio di un circuito Plastica Golden Nugget E Redstone Torch Easy Penso sia tipo Un circuito Sì, 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 sì Uno che sa Golden Nugget E Redstone Torch Quindi No, non la sopporto più sta valvola È per quello che Porca buttana esplodi Aspetta, 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 aspetta No, non c'è Ma non puoi tipo Faccio un sound muffler Vado Sound Oh Fatto tutto E stava Sì Lidio, grazie mille Grande Lidio Grazie mille Lidio Grazie mille Gentissima Gentissima MB Ma non funziona Ambo Come? Sì che sta funzionando Un cane Egli il tempo Che deve fare Le sue cose Comunque intanto Ma non c'ha messo Sì 62 anni Però ok Ok Ne ho due di queste cose Ambo Di cosa hai Ti sta sbagliando Dobbiamo adesso Hai due di quelle Ok Caricare la roba con L'UV lightbox L'UV lightbox Che sta facendo Tano Nel mentre che Tano Perché mi manca la Nel mentre che Tano Fa queste cose Noi ci portiamo avanti Facendo l'altro Liquido Ma regà Che sta continuando a Ma che è sto bordello? Perché continua a buttare pressione? Perché continua a... Oh Impazzito Scusami E fermiamo un secondo La produzione di pressione Ma dove esce? E' sto casino Si è baglato? Un secondo Stavo soffogando Sei baglato Dentro Allora Ma cos'è? Ma quanta pressione Scusami Niente Lui continua Ma perché continua A fare sto bordello? Ma non è che... Scusami Eh sì Forse è un audio Buggato e basta Del... Di Minecraft Perché anche il sound Muffin non lo abbassa Ah Silenzio Era un bug? Sì Ah ok Comunque sì Bisogna rimettere anche la valvolina Quella alla che sputa No Ma che cazzo I problemi c'ha No Ambo Si crea No sei ripagato Si si bugga qualcosa qua Ma togli tutto Basta Vedi si bugga qualcosa Ma che cazzo è? No Ambo No Ambo No Ambo Cosa è? Cosa che tu è? Ambo fa qualcosa Ma non è che cazzo è? 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 Io l'ho fatto con tanto amore E voi l'avete rotto Ma arriva da qui E da qui in alto Ok Ok Via Ho fatto lo... Ah c'era un blocco buggato Ho fatto lo stop sound Di Minecraft Dio santo Mamma mia Buggatissimo Ok Abbiamo tolto tutto Rifacciamola La facciamo lontana così il rumore sti cazzi? Si vai Mi piace Mi piace Qua è perfetto Ok Ok Ambo Ho quasi fatto Servono due vetri Ok Chamber Questo qui Arrivo Non è vero Ah c'hai tutto Ok Si si E anche un tubicino Ok Tieni Tieni Diciamo che mi prendo Delle tablet E me le porto in giro Ok Questo qua Questo qui Ok 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 Perfetto Perfetto E' tutto sistemato Di nuovo Ok Quindi Ci portiamo avanti Dobbiamo fare l'altro liquido Ah giusto Dobbiamo Eh aspetta 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 Noi dobbiamo craftare adesso Il UV light box Eh ma lo sta fatando Per questo ho detto Ci portiamo avanti Ah Ok Volete da una mano Letching acid buckets Si dobbiamo fare quello Tano dai è facile non ti preoccupare Sei bravo con la create Ah ma che ce vuole Ma che ce vuole Dai No vabbè anche senza Abelto va bene Comunque Allora Ambo mi di un attimo le robe che servono Per quel robo Eh Sì ti dico subito Allora Serve la gunpowder Ce l'ho La rotten flesh Non ce l'abbiamo O non ce l'ho io Spider eye Non ce l'ho Bucket of molten plastic Quello lo possiamo fare tranquillamente Non abbiamo né la rotten flesh Né gli spider Perché giustamente Non abbiamo Ne abbiamo trovato mob Che serie è È una serie delle penitenze Dove praticamente Noi abbiamo tutto un pacchetto Da completare Prima che il mondo Viene completamente Detonato da voi Tramite le penitenze Che leggi sotto la mia facecam Vabbè Tanto dovevamo già farlo Fermiamo un secondo La produzione di pressione E il capitolo Dobbiamo fare un mob spawner Cosa? Dobbiamo fare un mob spawner Cosa? Eh lo so Un altro mob spawner Ma è tipo il 22esimo Che facciamo Eh ma serve sempre In una skyworld Skyworld block Cosa? Skyblocks Mondo Vabbè ma lo facciamo facile Veloce Ma non possiamo fare quello Bello turbo sgravo No vero? E facciamo un cubo Vai No Non dico il cubo Quello classico Cioè quello Che spawnano un sacco di Eh quello là Adesso vedo Vai Ambo Vai vai Tu intanto fai un cubo Di Di che? Un 7x7 Una scatola 7x7 Di cobblestone Che ne so Perché mi sa che Per fare questa roba Mi puoi dare una Waller Una Tieni Allora un 7x7 Se tu l'hai già visto Prima nel sifter Cos'è che ci devo mettere Poi 1 2 3 4 5 E il mesh non lo so 2 3 4 5 6 7 7x7 7x7 comprese Le pareti Giusto indietro Un 5x5 Sì 2 3 4 5 6 7 Ambo Ho fatto Il cubo Hai messo la terra? Ambo Ho perso il paxel Da che sei finito? Oh è rispuntato Hai messo la terra sotto? No la metto Intanto faccio le fan Vado 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 Iron Capo oggi testimoni di Giove Mi hanno suonato E mi hanno detto Arriverà una fortuna Nella tua vita 5 ore dopo Sto mettendo In televisione Sulla mensola Che non regge il supporto E ho spaccato In un muro Che devo fare? Ma tu vuole che ci credi Scusami Ragazzi Non penso che sia colpa loro Come Non penso che sia Colpa di una divinità Le persone fanno Soltanto chi ti ha montato male la mensola Quello che deve Intanto Tieni questa roba Anche se lo userai Te lo userai sulla terra poi Procedo a mettere Uovo No non è vero Fatto Ok quindi Vabbè chiudi Si sa mai Ci devono essere troppi mob Vabbè Poi ci pensiamo Ma non spawnano Domanda Qualcuno ha il brass O ha fatto il mixing Oddio Mepi scheletro Tieni Ma non c'ho già il brass smash Tieni Ah A posto Faccio Pure Pure Scusate ragazzi Sono un pochettino manesco Era un po' accessivo Infatti Hai uno stick Un cosa Uno stick Preso Allora Dov'è quel blocco Per fare la plastica Che metto a fare Intanto l'altra plastica liquida Quale blocco Ah E il termo Tieni Si Tanto la plastica Ci servirà sempre Ok Poi dei diamanti Mi dà anche il charcoal Porta e semente E c'ha ragione Char Uno stick No ragazzi Non dovete essere così scurridi Ragazzi Eh per favore Allora Gunpowder E il bucket di Molten Ce l'abbiamo Io ho fatto il mob Freakfrax Serve soltanto La rotta in flash Lo spaderai Si si Adesso facciamo Oh cazzo Questo è un baby creeper Fa boom Allora Mettiamo Ti amo Tengo così io Ok Tengo paura Forse devi Adesso farò una mission Da fare Bene Bene Allora C'è solo un problema Non spuonano gli zombie Ma di lì Questa sta gente Io volevo fare Una cosa buona Ambo Mamma mia Rega Guardate Dovevo fare Stanto gli spiderai Ambo No il fatto è che io volevo mettere Capito Le cose per Per spingere Sì Però C'è il tuo cadavere qua dentro Ambo Sì Ok Ok Aia Ok Mettiamo Quello è qui Poi chiediamo tutto Ok Vado via Vado via Ok Mettiamo La leva La plastica Voi l'avete prodotta Quindi Sì Perché me ne servirebbe Un pochettino Quanta Sette pezzi E uno E due Tre Quattro Cinque A meno che non l'avete già fatto voi L'avete già utilizzata Questa per qualcosa No Serve La Amadron Tablet No Amazon Poi lo facciamo Come poi Sperrebbe che servirebbe Adesso Ambo però Questo Amazon tablet Ora facciamo Amazon Perché mi serve Il blueprint Per fare la luce Ora facciamo Amazon Vabbè Nel mentre che farma Noi andiamo a fare O se tu uno zombie Andiamo a fare Amazon Volete farlo voi Amazon Sì 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 Facciamo Amazon Vabbè Vabbè Allora Allora Ah bisogna fare Amadron Tablet Dobbiamo fare questa cosa qua Ama Amadron 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 Ok Si fa praticamente con Ah Devo fare un GPS Serve un diamante Serve poi del vetro La pannella di vetro Che ce l'ho già E abbiamo quindi GPS Fatto Serve soltanto Questo Fatto Serve l'altra plastica Che la si fa al volo E una E due Per fortuna In questa mod Comunque Semplice Ok Ho l'amadron Tablet Dobbiamo però Caricarlo di pressione Sì Adesso però Facciamo la struttura Dove si deve fare Dove lo carico di pressione Ambo Eh dobbiamo fare Una charging station Ma non se l'ha già fatta Infatti Come abbiamo caricato È esploso tutto Ah no Tu l'hai fatta Però Sì è esploso tutto Vabbè Vieni di qua Arrivo Intanto Gli zombie muoiono Qui Vai Carica Ok Ah Due bar Tre bar Sta andando Sta andando Vabbè Intanto Si carica Come funziona Amazon qua Io non capisco Perché però È così Lento Eh perché Probabilmente Nella Nella station No no È giusto È già al massimo Mi sa Ah no Eh sì però Carica lento È lento Vabbè Ci vediamo gli upgrade Guarda L'ho appena messo Ah a posto Bravo Tano Vabbè Basta Penso Questa roba Io ho messo Sto Security upgrade Così La charging station Non esplode Ok Basta Va benissimo Ok Ah come funziona Prendiamo una cesta Una cesta Fagli fare direttamente Poi la cosa che serve a me Quella con otto smeraldi Sì sì Allora se tu clicchi tasto Shift tasto testo in teoria La colleghi la cesta Ok Sì Adesso se tu ordini su Amazon Ah Ah e cosa dobbiamo ordinare Raga 8 smeraldi Blueprint Nel senso Ok il PCB blueprint Bcb blueprint Questo qua Sì Abbiamo gli smeraldi Ce li ha M Li prendo Ce l'ho anch'io forse Ok tu metti gli smeraldi Nella cesta Ma ce ne stanno due I PCB blueprint Quello da 8 Quello da 8 Ok Ok come ordino Metti gli smeraldi Nella cesta Ok Adesso ordino Lui prenderà le cose Ok Poi c'è place order sopra Vero Però non so Fatto Place order Adesso Amazon arriverà Oh Oddio col drone È arrivato Amazon Sium E va A portarti la cosa Che ti serve Tra 3 2 1 Non ammazzare Amazon Oh rubiamoci il drone Rubiamoci il drone Buono Lo rivendiamo Easy Vabbè abbiamo fatto quello che serve a Tano Grazie Amazon Tieni Tano Grazie mille Amazon Craftiamo Amazon Ti rendi conto Abbiamo fatto Amazon Ok quindi ci ha dato tutto Ok Questa qua è la charging station Ok Tu ci metti il coso dentro E carica Il PCB Ah si questo Ecco quello lì Ok E con la pressione Lui dovrebbe caricare E allora devo attaccarlo Dovrebbe caricarlo Magari dietro Ah il puttuso dietro Aspetta Eh si Ecco Ehi si sta illuminando Ah le luci in ultraviolette No Aiuto Ah perché la cosa è ultravioletta Esatto E cosa Perché come trasforma Cioè Come trasforma Perché ultravioletto con la pressione Ti sembra un ingegnere No E allora Lui va Ho messo Gli speed up grids Ok Lui Farà Fino al 100% Sperando che non si rompa Vediamo Si può rompere In teoria 98 99 Eccolo qua Che bravi ragazzi Siamo degli ingegneri Adesso Questo qua ci servirà insieme Al liquido Che dovevamo fare prima Ma In realtà Si serve soltanto Lo spider eye Vabbè si Dobbiamo trovare adesso Rottenflash e spider eye Però Ambo Si rottenflash e spider eye E in teoria Se adesso spacchiamo Io Farei Un po' di luce Perché così non spawnano più i mob Lì farei mori tutti Ok Prendi tutto il lullo Ah ma così si faceva la glowstone Come? Aspetta Spengo Spengo le cose Spegni Spegni Non posso entrare Spendo tutto Ragazzi Neppinissimo Di pattume Ok ho preso tutto Ficchi Ho avuto Entrano la cesta Ho gli spider eye No ma ci sono i potenziamenti Per il loot Ok Dei rispettare Ambo Massimo rispetto Ok Questo è fatto Niente Rottenflash E spider eye Ok ho tutto Andiamo Vai Facciamo la super pressione Quindi Quanto è pericolosa La super pressione qua Non rischia di esplodere tutto Allora Deve esplodere qua La gente Dai Eh ma quante robe Ci devo buttare Non mi ricordo Io Il bucket è 2-2-2 2-1 Più il bucket 2 gunpowder 2 rottenflash 2 spider eye Serve 1 di pressione Quindi dovrebbe star facendo Perchè Ma sono proprio lenti Di entrare gli oggetti Provedola Sì no perché allora Fare entrare un oggetto Richiede Tot pressione Quindi Ah ok Piano piano Fatto Sì Ce l'abbiamo Ok Questo qui Adesso No Ah ok E' buono E' ancora buono Pensavo Pensavo scomparisse C'era dopo un tank Raga E' gentile Non come il pack scorso Mannaggia lui E ci dà Un po' di Plus E' buono Adesso dobbiamo fare Dobbiamo fare L'enching T tank Oh Cristo Che avevo già fatto fare a Tano E vuole tutta questa roba qui in sequenza No Quella è un'altra cosa Poi la facciamo Quella è una cosa bellissima Ok La cosa bella della mob Dobbiamo fare L'enching T Eccolo qua L'aveva già fatto Tano Ok Ok Questa roba In questa roba qua Tu ci devi mettere l'enching C'è l'enching pure Ma è letteralmente tipo come una stampa 3D Cioè che devi poi pulirla Con Col coso E tutto La stampa resula Sì Ci metti il Cbc 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 Ok E ci devi mettere il liquido E c'è una possibilità che si rompa Non il macchinario Il circuito Ok Eccolo E ora Vedi che Se vai sul circuitino Ah sta andando Sta andando Sì piano piano Speriamo che non si rompa Ok Se si rompe dobbiamo fare questo processo Ok ok Vabbè Chiaro Chiarissimo Semplicissimo Già che non ha valore ciò che dà Se ci riserve Non ha senso Dobbiamo rifare Un altro già Ci partiamo avanti E ne facciamo già un altro No ma non è Dobbiamo fare Già io ne ho un altro di empty pcb Ma si la metto a fare intanto Ce ne servono 3 4 5 6 Eh partiamoci avanti Non avrà mai valore Tanto sta roba No non ce la Beh intanto guarda Già sto facendo l'altro Nuovo pcb eh Già quasi fatto Ce ne servono 7 più 4 Per 16 Più 7 21 Cosa No 12 Più 7 19 Perché se vuoi fare L'armatura a tutti Sono 19 Ma chi se ne è fatta L'armatura Eh allora ok Allora ne servono solo 11 per fare la quest Ne ho un altro Ah e allora Incominciamo a Ne facciamo tante Ma tanto Eh si Mettiamoli a fare Che ci vuole Io ne ho un altro Ah vanno anche insieme Si si Tutta tanti Metti tutte le celluline Capito Vabbè Plastica Golden Nugget Redstone Torch Golden Nugget Redstone Torch Vai Ma qua c'è la plastica Ok Redstone Torch Ce le ho E le Nugget Ce le ho pure Arrivo Tano Che c'è L'hai un po' rubato E va bene Se lo metto di qua a fare Non è rubare Lavorare Fatto Sta andando Pressurizza Pressurizza E le ho pure Troppa tranquillità Stasera Ma che è Ci stanno Stiamo abituando Troppo bene Eh ma sto buco Lo ripariamo No Ok Scusa Non lo faccio più Ma Effettivamente Questo backpack È tuo Che me lo stavo Chiedendo anche Prima Non lo so Ah sì Hai molte comunque domande Cioè hai risposte molto Sì 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 Il mio Poi rimanere lì Eh Rimanere lì Oh uno fatto Ok Una sempre Non ti ho detto No C'è l'altro C'è l'altro Ma ce ne dà quattro Quando li finisci Ok quindi no Le serve solo uno Avevo presso I transistor Eccetera Dobbiamo fare I transistor E i capacitor Transistor sono Plastica Redstone E gold nugget Invece i capacitor E allora Dobbiamo pregliare Altro Biofuel Ah perché è finito La plastica Biodiesel Sì Ok Mettiamo a fare Intanto preparo tutto Allora La salviamo Ma Mi serve la ghost Ok allora Perché Però scusami Ambo Perché non Non va adesso C'è visto la lava C'è sotto Eh si è raffreddata Vabbè non spaccare la cosa Fai così Vabbè Mi vuol dire Mettici la lava sotto Un attimo Nel mentre lavori E poi la spacchi Capito Certo Allora Quindi Erano i transistor Ok I capacitor Sono gold nuggets Slime bull Non puoi con tutta sta cosa Alla fine Che ci craftiamo di bello Le quest Cioè No sto scherzando Allora Se vedi Sotto a tutto Ci sono Ci sono i chip I chip Per fare poi L'altra mod Che è quella della storage Ah perché ok I chip non sono di questa mod No Sono di un'altra mod Che ci serviranno Per fare le quest Dell'altra mod Ci sono Quindi La maio sarebbe Trovare anche un modo Per farmarli Poi questi chip No No Perché non la userò Cioè non la useremo Come Cosa di storage La useremo solo Per fare le quest Perfetto Ci siamo Ci siamo Ci siamo Quindi ho le slime Bolo la cosa Ho le gold nuggets Io Ragazzi Sono già Ad accusare Il fatto di aver iniziato La live Il pomeriggio Sì infatti sei Mi sento Sì sono molto No A parte perché siamo In tranquillità ecco Quindi non c'è niente Che mi sta tenendo sveglio Non che mi stia addormentando Però sono tranquillo Anche perché ho fatto Minecraft A buildare prima Quindi sono bello Non tranquillo Vabbè ragazzi Però L'ho appena detto Io Ma lontano Bibu Grazie mille Per i due Thank you Fatto Grazie mille Sì quindi Sono tranquillo Ho capito Cioè non so Poi più tardi Su CS Come mi comporterò Però 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 No Ambo Lasciamolo qui Potrebbe servire No Ok no Fidati di me Ma io Io mi fido Però Dico vai Lo spazio non manca Allora Ambo Io c'ho la plastica È bello da vedere Io ti ho dato La slime ball La La redstone E il god nugget Che servono tutti quanti Per fare Sia i transistor Che i Ma Ma Possiamo mettere Sì sì Metti tutto dentro Dove funzionare Abbiamo 15 pcb Come Orca Non c'è Eh ma come la svuotiamo Adesso Questa Ma The First Descendants Tornerà Yes Questa settimana Sì perché ci dovrebbe essere L'update Anche ad agosto Questa settimana Ragazzi Farmeremo Cioè farmeremo Completeremo La skin di Ultrabanni E poi andremo Con altre Altri pg Da Da sbloccare Non spaccare mai le cose Lavora in modo intelligente Non ha preso Non ha preso Che non prende Perché penso che siano No Sono Sono No Sono blocchi Effetti Ah stai però posso fare così Eh hai preso Tu Petro Ok Ok Volevo prenderli subito Allora Metto la plastica Poi quanta Redstone 3 Di redstone Per ognuno Quindi metti ne 12 Tipo E poi Le god nugget Eh ma Facciamo scegliere Cosa deve fare No perché Uno è con le slime ball Uno è con la redstone Ah Ma fai quelli con la redstone E poi fai quelli con le stelle Vabbè scegliere Lui dai Sì Certo Che Dove Chi ha messo I cose a tutti Può dare mettere Anche a queste qua Stai già D'ultra bar Io Mi sento Eh ma Vabbè Ci ho giocato Tanto Diciamo Quante ore hai Ti sta già facendo Bu 60 Quindi Eh ma Sono già 10 giorni Che non ci gioco Ciao frenzi Allora Ho 4 transistor Quindi Ti sei fatto La lasciata Iniziale Poi stai Pieno Sì Nel senso Ora non ci sto più Di Non ci sto giocando Tantissimo Perché mi sono messo A fare altro Ecco Ragazzi Dobbiamo Ovvizzarli No ma non serve Te lo dico Perché ho visto Ho visto le quest Se fai una finita Te ne da qua Sì ma qua Non sta Non sta facendo Gli altri Perché forse Mancano le Cold Nugget Le ho messe Adesso Vediamo Ah sì Non c'è abbastanza Pressione Come non c'è abbastanza Pressione Pressurizza Oddio Ragazzo Ok Ha fatto È un po' lenta Sta cosa Comunque Velocizza Non può Sì invece Ho scoperto Che molti blocchi E non blocco ancora Se trovi Il blocco ancora Velocizzi Dai che ce l'ha fatto Ha finito la plastic No Ce l'hai? No Non farne ancora Allora Io ho nove Transistor E un Capacitator Ah ok Quanti ne ha? Basta Transistor Ma di che stai facendo? Fa troppi Transistor Aspetta Devo fare Altra plastica C'è un problema Mi serve Non so Qua non c'è Nella chest Mi serve Dobbiamo finire il coso Il Il carburante Ma lo stavamo producendo Ma lo stavamo producendo Al bisogno se lei Sì è in produzione E qua dietro In teoria Sì siamo pieni Qua c'è più E qua c'è tutto E come lo De 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 Forse addirittura Con un secchiello Tu vuoi più È normale O no Il biodiesel Il Biodiesel Ah ok Non basta Fai tutto Sto testo Sul coso Vabbè Dai Easy Ambo Serve la lava Sì raga Manca una sub E diventiamo Leggermente più piccoli Perfetto Sposto Olè Ok Nel tre quattro E mettite Pulito E mi riporti Internet caffè Che l'hanno aggiornato Penso di Di sì Che poi andrò a riportare Andando Ok Appena fa Butta Ok vai Fatto Dai Mazza Ma è lentissima Ok Ne ho Ne ho due Vai Eh Guardi ne ha fatti Vabbè Vabbè Stiamo Non finisce più Ok Dai fai un Adesso devi fare Il Finish The PCB E poi abbiamo finito Cioè più o meno Quasi Vabbè ci siamo quasi Sì Siamo quasi Che urso che non mi dà il È perché All'NBT Ok Quanti ne devo fare Uno solo Fatto Prendiamo le quest E ce ne da quattro gratis Ne abbiamo cinque a testa Quindi Eh no Quattro a testa Ah sì Ok 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 Senza senso E adesso Ne serve uno per macchinario Poi quindi Adesso No ne servono Uno per gli altri E tre per il controller Dobbiamo fare tutti i macchinari sotto Visto Visto che avrai Tutti i C Fai tutto Tutto Dobbiamo fare il laser assembly Adesso Allora Subito Parto dal primo Sì 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 Un primo Poi Fino a In fondo Sì ma il problema è che Tutto assembly Ok Me lo cerco qua di lato Sì sì Ma insegnatelo tutto quanto Io devo ricordare come funziona E Ambo ma serve tanta plastica Tanta roba qui eh Tanti oggetti Adesso mi metto a fare un po' di plastica Serve un sacco di plastica Ambo Tanta plastica Il compresso è da iron Un sacco di roba Il compresso è da gioco Allora facciamo così Allora facciamo così Mi porto questo di là Lo carico full di biodiesel Vai 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 Qual è il problema Mancano i semi Io posso fare così Esatto Che cosa hai fatto? Che cosa hai combinato? Penso che sia buggato Ambo È citato sì Cosa è citato? È buggato Svuoti su una Poi la metti a terra E si riempie Ah perché è l'npt Sì ma Sì Ma la svuoti Quindi è finita Esatto Eh sì Eh vabbè ragazzi Dai un piccolo errore Da principiante Vabbè è buono no? Ah Chi si lamenta? Chi siamo noi Per non usarlo? Mettiamo questo qui Mettiamo Vabbè abbiamo rotto anche questo pacchetto Shadowfede Grazie per i dieci Gentilissimo Sai che ad esempio Ora non mi si è riempito di nuovo? No Può essere Può essere Io mi sa ragazzi Mi devo far fare un caffè Io Te ne ho fatti 42 Per adesso Poi piano piano ne faccio altri Di caffè? No di plastica Caffè Ah dovevi rimpiccionirci Giusto Ambo Attenzione Fatto Beh Sei un po' più basso Sì 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 No amiche l'ho sentito mentre camminavo Mi sono visto la visura abbassare Sì Eh ragazzi Ricordo che ogni 10 sub Diventiamo sempre più piccoli Aspettate che A giorno Agge in automatico a 20 E' la mosca Ah ok Ti stavi divertendo con Ok Capisco Allora Serve Mi sarei tipo Il cannon qualcosa Ambo Il cannon Cannon Con un sacco di Screwdriver A questo Cannon I cilinder Servono Eh ce l'ho io Il cannon Barrel Te lo passo Bravo Allora Uno l'ho fatto No Ok Aspetta che ne prendo altri Ok Questo ho fatto Di questo Devo fare un botto Uguale per forza Il vetro rosso Il vetro rosso Mi fai Una cosa che vuole il vetro rosso Mi fai il vetro rosso per favore Ok Poi Iron Chest Mettiamo questo Questo qua Vedro rosso Fatto Thank you Vedro rosso Fatto Questo Fatto Questo qui Vuole questo Fatto E abbiamo Anche questo Poi serve Questo Fatto Ah c'è import export Che ho detto mica Sono uguali E infine questo Vuole due di questi Nessun problema No vuole tre di plastica Ambo Sì Arrivo Cameriera con il suo caffè Gentilissima Quanti diamanti Hai visto quanti diamanti? Hai visto? Ambo a me sta cosa Non me l'ha fatta fare Però Ha i suoi motivi Perché non te l'ha fatta fare Io direi che Camilla è in talenta Tre precisi Codo E' andata via ragazzi Un pochettino triste Ma non ce ne avevamo i soldi Qualcuno doveva dirle la verità Ok Ok ho tutti i materiali Perfetto Adesso Mi devo ricordare come funzionano Dai Ma pensiamoli a caso Più o meno sì Vieni Come? Più o meno sì Funziona più o meno così Allora hai presente Ti dicevo l'altra volta Hai presente i bracci di create no? Sì Ah ok Questo è un predecessore Dei braccini della create Metti la station Oh vabbè Il center Come si chiama? Controller Sì controller Ok Adesso metti tutti quanti a caso intorno A caso? Sì Poi vediamo se funziona Attaccati però devono essere a lui E allora però Non mi dire a caso Ambo Non attaccati Nel senso Devono essere Capito Collegati Esatto Così Ne avevi più un quarto tanto Ok Adesso Se noi ci mettiamo una cesta E ci metti questo qui Nel coso centrale Un attimo Ambo Ok Se premi U Ok Mi apre Vedi che ti dice tutte le cose che ci puoi craftare C Devi premere U Sull'assembly program laser C Ok Ok Ce li ho La terza tab Ce li ho Vedi che ci puoi fare tutte queste cose qua Ok Sì Prendiamone uno semplice Tipo Vabbè l'empti PCB Che diventa un assembly PCB per esempio Vabbè prendiamo il Ah beh sì Se puoi farlo sì Vai prendine uno se ce l'hai Non lo so se ce l'ho eh Mi faccia controllare Sì ce li ho Spero per il chilo di questa moda che siano animati Certo Dentro una cesta messo Oh Ovviamente la pressione è bassa Quindi è lento Ma la possiamo velocizzare Ce l'abbiamo gli aggeggini Guarda come Guarda prende dalla cesta No vabbè E adesso non so dove metterlo Perché mi sottopontano Qua Stiamo andando Certo non è visto nulla lui Ok Ok adesso Il problema è che Mettiamoci il drill No Ci mettiamo questo Running aspetta aspetta Perché non so quale sia il prossimo Ambo 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 Così ti togli la cesta e metti la loro in mezzo Ecco Ecco Così secondo me è il metodo migliore Running Running Lui run Running Ah perché ho bisogno di più pressione Mi sa Ho più pressione Perché Ho l'entuccio qua Si sta scendendo Ah si la vedo che è un po' Nini nini Stand by Si stand by Un po' Eh si è un po' Eh velocizio un po' Ci siamo Stiamo a segno di pressione Ambo Ok Ah che cosa Tu cos'hai fatto fa? Il PCB Ma c'è l'import L'export Laser e l'assemblio Ok Non dovrebbe funzionare Non so perché Beh L'import L'export Spero per lui che tra poco funzioni Eh questo non Ma non è che l'ha fatta E noi stiamo No Pazzito Ma è al massimo Ah forse ha bisogno del laser di fianco Metti Ok fatto Allora Prende Mette Laser lavora Ok Fa bizzi 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 Ok Prende E non sa dove metterlo Perché la cesta è lontana Mettiamo un'altra cesta Oh la E ha fatto Visto Vabbè I braccini della Create Più o meno Però i braccini della Create Sono un po' più carini Eh si si Vabbè Sono carini anche questi Non sono male Non sono male questi qua Ci servirà per fare Delle cose Non adesso Perché non ho Voglia Oh C'è assurdo Dovrò continuare quest Non ho conto Vabbè Lato quest però Posso dire che noi siamo già A buon punto Perché mancano da craftare Soltanto Uno Due Tre oggetti Più Vabbè L'armatura che Non lo so chat Quanto senso ha Farla Ecco Valutiamo questa cosa Se farla o meno Ci sono armature più potenti E facciamo il Martello pneumatico Dai Aspetta un attimo Sì sì Sto vedendo una cosa Dell'audio un attimo Dovrebbe già avere Tutti i materiali Manca la plastica La plastica Vado a prendere Sì vado a prendere Tocca a fare la plastica Magni e torno Va bene Fa benissimo prof Chat vuol dire che Da adesso La Chat non ha più Una moderazione Di conseguenza Potete scrivere quello che volete Nessuno Vi potrà mai punirvi Mi sta comisando Di bait Provo Io non mi fido Mentre prendi la plastica E metti da terra E non ho un Ducchiaio Where is the plastic A terra Tano A terra Tano A terra Tano A terra Tano Vai Tano che sei bravissimo Sei il lavoratore Bene Continuate Ti basta Ne voleva due Tu fanne tanto Lavoro Ma intanto Così può Fare il resto Ok Allora Ho la plastica Dobbiamo fare Noi Beh I jackhammer I jackhammer Ah ma che È in Un crafting Ah ma Poi Sì Ma sapete se Levo la lava E la ripiazzo O la resetta Secondo me sì Secondo me Sì La butto lì 3 2 1 No Diamante Quanto hai fatto Tano 37 Ma sì Per sicurezza No ragazzi Serve un'altra di plastica Ragazzi E portagliela Arrivano 40 Plastic Droppa Droppa Ti ho fatto il Ce l'ho Guarda come sei un martellatore Mamma mia Tu 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 Non sai far nulla Perché No Oh ma questo scava Eh sì Un jackhammer Un scavatore Come lo carico Con la pressione ovviamente Col charger Ma certo Nell'angorina sotto la cosa Eccolo guarda come vai Vai vediamo quanto è potente Questo jackhammer Magari non qua Ecco Ma sì Che te ne frega Guardalo Gli altri non posso farli Perché forse Vuole una punta migliore La punta diamantata Che possiamo fare Già la cobblestone è interessante Facciamo la punta diamantata Dai Perché tanto ci serve per le queste No Fai No L'ho droppato giù Su sto mio Lo prendo Buttati Buttati Lo prendo No Mi ha tippato sopra Giusto in tempo Non ci credo ragazzi La puttata Devevi fare Vado a fare il lubrificante Ma perché l'ho presa al culo Tano vieni a fare il lubrificante Arrivo E poi lo usiamo anche Per fare la punta in diamante Tano Eh beh sì Che cd fa se no Esatto Serve la redstone Al posto del cercoglio Io mi rifiuto di ricraftarlo Vieni Tano vai Io non ricrafto più ragazzi La lava sotto Io da domani vado in ferie E da domani mi trasferisco tipo Alle Hawaii Fatti il lubrificante Basta Adesso il lubrificante Il lubrificante Dobbiamo metterlo insieme Un blocco di diamante Nel thermal plastic process unit Però non possiamo farlo Perché serve 7.5 di pressure Vanno fatti i capi Io ragazzi Super pressione Dire che Super pressione amo Ehmè non hai più voglia Io Regà Fosse per Ma Fosse per Ma Proprio In maniera molto indiscreta Sì Entrerei E entrerei Era come ora Di server Della mojang E cancellerei Proprio minecraft Per quale motivo Solo perché Hai buttato un jackhammer A terra Dai Sì Sono triste Che palla Dai ripallo Dai è facile Non sono triste Non sono triste Non sono triste Te lo faccio io Dai te lo faccio io Tu intanto fai Ho perso il mio martello pneumatico Che palla Ah intanto tu Ti farai Uffa Air compressor Si chiama Fai L'advance Air compressor Dai Ma il fatto è C'è arrivato quasi vicino A prenderlo Proprio a distanza Due tre blocchi Che mi ha tipato in alto Ehmè Sì Fai l'advance Air compressor Io ti faccio il jackhammer Io non ti conosco Dai ti rifaccio il jackhammer Cosa che vuoi Advanced Air compressor È facile Basta fare un tubicino Che si fa facile Con quel Cosa di prima Faccio Tu puoi già farlo Che ti manca Ci sono L'ho fatto Micchia Carissimo Ok Questo qua È ancora disponibile Il mantello Di minecraft Devi provare Non lo so sinceramente Perché è una roba Di inizio giugno Se non sbaglio Togli gli altri due Perché se no esplodono Quello la produce C'è fino a 20 Se mi sbaglio Fino a 20 Però esplode il chamber A 20 Non va Perché c'è lo sfiatatoio Ok E i cavi Esplodono Vanno messi quelli buoni C'è lo sfiatatoio Silenzio L'assembly control Devi sattivare la mod Che riporta sopra Eh ma normalmente È andata Leonardo Ok lui sta Producendo Sai che forse Probabilmente Per fare ancora più pressione Serve la lava sotto No Si sta riscaldando No si sta riscaldando da solo Ho girato per sbaglio Ha avuto un attimo Ok ora Ce la farà piano piano No dico Ambo Lo sfiatatoio qui Sfiata Dal chamber O dai cavi È uguale È collegato Ok ok Quindi va C'è C'è qualcosa Di base Che è un numero Però ok Cosa Tano Come pare Siamo degli ingegners Tano nessun problema Ingegneri Hai il lubrificante Tano L'hai preso? No Sei veramente Come devo prenderlo? Con degli secchi Ma No Adesso lo prendo io Aia Bucket Oh Sono cacato Passa Grazie mille Per i due Sono io Mettici gli occhi dentro Oh È lubrificante Vabbè Mamma mia È lubrificato adesso Come ti senti? Ma è scivoloso Ah ok Mi schiata Ehm Mettiamo il lubrificante qua dentro Ok Perché c'è un blocco di diamante? È perché Ma non la raggiungerà mai Perché c'è lo schiattatoio Quindi va O va isolato In qualche modo Tano No Tano Sei un genio Effettivamente Stacchiamo anche questo però Ma vai Qual è il problema Ragazzi La valvola scoppierà Te lo dico Non è un problema Ma ci scoppia tutto qua Ma va Vabbè Allora Io mi dissocio Da queste Ragazzi Va Era ovvio Ma non serve più a nulla Stamodo Non ti preoccupare Let's go Il cosa per caricare Teniamolo Che può essere utile E quello Quello Ovviamente arriva Così possiamo caricare Anche le armi Tantissimo Che bello Ma serve 8000 di lubrificante Arrivo Vai Ambo Serve altro call ragazzi E per Ressource Pack 2 Appunto schermativo Texture in chat Oppure Appunto schermativo Mod Puoi scaricare la mod Che è anche per Minecraft 1.20.1 Non 1.21 Che è dentro La diverse cose Anche della texture Scusami Tano Un attimo Io Creare una Bomba carta Vieni qua E per cosa ti servo io? No perché va così veloce Tano? Perché c'è Il per 10 Non lo vedi Cosa hai fatto esplodere? Cosa esploso? Questo non è bello Ambo Quanto ci vuole Craftare quel blocco là Per fare la punta? Amc Si gode Si gode Si gode Tieni Ci metto Però È perché Ma è già rossa È già rossa Troppo 11 No vabbè 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 Si è fermato Per fortuna Non ha altro roll Ok Ok Mettici il blocco di diamante dentro Veloce 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 C'è fatto C'è fatto Perché non va? Per la temperatura mi sa Mettila la lava sotto Eh Vuole 500 gradi centigradi Albo Dai Metti la lava sotto Perché la lava è calda Porta tu sorella qui Subito Mettila sotto Non penso Non Dai per favore Che è piccola Ti Fa' 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 Va beh Oh sta funzionando Ammelo qua Si sta facendo Oh ho sentito Ho sentito un L'abbiamo fatto Let's go Che bravi Che siamo Però Ambo Manca la Però il pneumatic Vieni Oh ho intornato Vai divertiti Gioca Gioca col tuo Aspetta che lo carico Se faccio Aha Lo sapevo Non c'è la data Una letterite Vabbè Ragazzi Sto per fare una cosa Che Gli youtuber di minecraft Ecco qua Guarda Hai visto No vabbè si Non c'è cam Guarda Sto per fare Sto per fare una cosa Che i minecraft Youtuber No no Ambo Non puoi farlo Ambo Sei pazzo Non riescono a farlo In vanilla Questi stupidi idioti Sto scavando Ambo Let's go Quanto è il massimo Di una piramide 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mi stai uccidendo Mi stai uccidendo Sei immortale La mosca immortale Ah no Non è immortale Ragazzi No Perfetto Perché sto fa un beacon di Ambo Ma che stai facendo Ambo Ebbene si Siamo stati FK A 5 minuti E abbiamo farmato Questa Nederita Pov Pov 2 punti Stai FK A 5 minuti Su minecraft Ecco il titolo Del VOD Ragazzi Mettici il beacon Per favore E non ce l'ho Ma come? C'è tutto Sto cosino E non c'è il beacon Facciamo finta Che questo è il beacon Ma come? E abbiamo ucciso Swither Non mi sembra Ma allora perché fare Fermi tutti Questa qui è un'ottima Miniatura Questo Ah Ovviamente dentro è vera Devi fare la miniatura Tagliata Con il Dentro Certo Tano Spostati per favore Se ti drop Ecco Olè Emera the live Ci ringrazia E quello rimarrà lì Perché tanto Non c'ho voglia Perfetto Comunque È bellissimo Come Guarda quanto vale Un ringotto Di nederita 2 Ma come Ma che cazzo Ma come è 63 mc Per lui è 63 mc Lascia fare L'ho brasato Solo per questo Mi sono permesso Di fare Ma perché Abbiamo fatto Tutto quanto le quest Cioè in realtà No però Beh Allora Ah Perché tu puoi fare La punta in nederita Anche Fai la punta in nederita Così spacchi Il mondo Come si fa Mining Eh sempre Servirà No Non me la dà Nederita Nella smiting table Ovviamente Perché questa è una cosa vaniglia No Nederita Drill bit Nederita Ragazzi Ma siamo in una ciambella volante Vogliamo veramente spaccare tutto con un click Ah Ah Eh Mi bastava aggiungere i due blocchi insieme E metterli nella cosa che abbiamo tolto Perché fa da fastidio Sto procedendo subito Sto procedendo subito Fatto Giuro se esplode Metto dentro Goto se esplode Stand by E metti la La recipe Come si mette la recipe Questa Qual è la recipe Che chiede La chiede È l'assembly progress drill Sì Ma Bisogna chiedere ad amadron Amazon Amadron Chiedere ad amazon L'assembly program drill Chiedere ad amazon Allora Assembly Drill E devi mettere gli smeraldi Solo drill Due punti drill Deve essere Ah Drill è basta Ok Drill è basta Sì Vuole sì Otto Eh Non ce li ho gli smeraldi Eh Tano Hai gli smeraldi salvati? Eh no Io non ce li ho Li prendo qua Li prendo qua Li prendo qua Aspetta Vai Chiedi ad amazon Ma si ferma la magica Come Out of Item to sell Ma che cd Non l'hai messi Nella cesta Ah vero Che fare Scusami Non pensavo che Non eri soldi Ma Fatto Ok Non arriva Amazons Amazons Due Eccolo Facciamo come Catania Con i droni Sium Vai Può essere D'amazon Ok Se è andato Adesso vuoi ucciderla Ok Mettilo nel Aspetta L'ho tolto Perché se non esplodeva Vai Fatto Metti Nella chest Vai C'è Stand by Oh Lentamente Stai per esplodere Tutto Lascia far No no La pistola sta scendendo Invece Ok apposta Apposta Non abbiamo il call Ok ok Metti 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 Inserisci Ok Ok Ce l'ho Apposto Può tutto esplodere Adesso Ok C'è guadagnato Devo ricostruire Tutto Porca Cazzozza Fratello ma specca un botto Eh penso Proprio di sì Quindi Vabbè C'è un pistò Perché c'è un pistò Non lo so Ci sono Perché C'è la blatta Ah vabbè Ma di Enrico Non è neanche in live Può finire qui Allora Dai la mettiamo più in milico Di che è questa Distermia Questa può finire qua sotto Via 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 Ripariamo Oppure lasciano il giro Allora Voglio fare una cosa Aspetta Dove 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 Punto esclamativo top Punto esclamativo Ragazzi I primi 5 Che scrivono in chat Gli faccio dare 25 punti A testa I primi 5 Che scrivono in chat Mi diamo un pochettino Non scrivo perché Non contare Ok 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 Fermi Diamo i punti Diamo i punti Al volo Allora Ah è vero Possiamo fare i pixel Di Mederiter Sì Oddio posso dargli Quei punti Yes Dare punto Allora Il primo È stato Riccardo 25 Dati Poi abbiamo Astro Perché non mi Ah devo chiudere Ok 25 Poi abbiamo Luca 25 Poi abbiamo Stefano 25 Sì 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 E poi Abbiamo fatto Quindi Uno Ah no Aspetta C'è anche Fra Combat Fatto Eccoci qua C'è pure Virgi Diamo 5 punti A Virgi Perché ha scritto Weee Virgi Prenditi questi 5 punti Sbagliato No Ti faccio vedere Come sbaglio io Ora Ah ok Grazie Ecco Virgi Dato 5 punti Ora per favore Vespa Dele Tano Grazie Ecco Non c'è bisogno Emes Sono io Sigiri Tengas No vabbè Eh abbiamo Le persone migliorate Sì Abbiamo fatto tutte le quest Siamo stati bravi Vai Allora Qua è esploduto Allora 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 No perché adesso Voglio sfruttare Ragazzi Gli ultimi 10 minuti Delle penitenze Prendere su CS Per dare dei punticini Altra cosa Darò dei punti Ora Nella classifica Delle top Durante Counter Strike Che penitenza Per Tano Virgi Quella che vuoi Quella che vuoi Di certo Non dico che devi fare Il clear Dell'inventario Però Secondo me Perché non ce l'ho Io Quanto meno Lo farei detonare Un pochettino Ok Fammi detonare Allora Facciamo così Chi riesce ad ammazzare Tano Si becca 300 punti Nella classifica No Non mi sembra Corretto Chi riesce A killare Tano 300 punti Nella top Mi faccia La piscinetta Veramente Ma scusate Stavo vedendo Una roba Capo La visuale Allora Voglio fare un test Tano Ragazzi Sono dentro Tano Voglio vedere Tano Quando decolla Dove finisce Tutte le penitenze Che fate Dalle TNT Alle cose Adesso verranno Eseguite Dove sta Tano Quindi Avete Più possibilità Di killarlo Chi lo ammazza 300 punti Nella top Subito Si risolve così Ma che cazzo No Perché sono Giacciate Oddio Oh Non ho il bucket Non ho il bucket Ma che è successo Tano Non so come fate Ma che è successo Era la penitenza Delle MLG Che non l'hanno mai fatta Era la penitenza E ti porta In alto E poi Ti Ti butta giù E ti congela Anche Si Ti congela un attimo Per darti il tempo Di capire Cosa sta succedendo Si Però io Io sono atterrato qui Eh Perché non puoi fare altro Tu eri infortunato Perché c'era l'acqua No io sono atterrato Sul duro No io sono morto Non so Si è atterrato sull'acqua Se mi sa di si Mi sa di si No raga Dalla mia visuale Ero lì Poi se ero desincato In qualche modo Non lo so Io ragazzi Farei quella Proprio per far detonare Tano Grazie tanto a Virgi Grazie per i venti Veramente Così Così può vedere Anche M Vero Virgi non sa Il Il regalo Aha Non lo sa Il regalo Che ho fatto a Don M M è un grano Che metti l'acqua Ma non sono io Non sto giocando io È la visuale di Tano Questa M ci sei? Si certo Io sto vedendo Oh Oh Eh Ma fai un mago? Sono un magos Ma con tutto lo puoi fare? Certo Tane con la bedrock Oh Se no capisci che c'è un problema Se lo fai con la bedrock Ah bisogna diventare più piccoli Oh No Non ho il bucket di nuovo Eh Tano In mo' sono cazzi tua Lano No 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 Io ho un waterbuckle Oh Guarda Ero troppo veloce Tano È un po' difficile Ma è impossibile È troppo veloce No 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 L'ho fatta L'ho fatta possibile L'ho fatta possibile Ma non per me Non per me Eh perché tu sei Tano Non mi frego nulla Tu sei Tano Chi è stato Chi è stato Virgi È stata lei È stata lei Sì Virgi È vinto i 300 punti Detto fatto Ti fa alzare velocissimo Ti frizza in aria Mirgi Eccola Y Vivi 300 punti Allora Ambo Dobbiamo diventare più piccolini Fatto Vabbè Mamma mia Troppo OP Quella roba di Ma non è vero Tano Siamo E OP E OP E OP Siamo morti mano nella mano Minchia Regà Tano Secondo me C'è uno skill in sciù Allora Ambo Io te la farei fare Fino a che non ti vedo Riuscire a sopravvivere Guarda Ma l'ho fatta C'è anche un video dove lo faccio Eh già No Tano Sono tutte fattibili le cose Ti pare Ma non tra me Ma c'è solo M esplosivo o sbaglio? Eh C'è solo M esplosivo Sì E un M esplosivo Degli Smeraldi per favore Sono un M esplosivo Tieni Grazie Così lo imparo Allora un attimo ragazzi Che Devo Cambiare Dov'è? Stai facendo Ambo Cos'è sto crafting? Allora È la Formaggio di Ossidiana Adesso facciamo quella di Siamo arrivati a 41 Già Cazzo Vai Dai Ragazzi Tra 9 euro Diventiamo ancora più piccoli Giustamente Mi manca la nederita Vediamo finché non riuscirete a rimpicciolirci Perché noi possiamo diventare anche piccoli 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 quanto quel pixel Sì Ok adesso abbiamo anche la fornace di nederita Vuoi vedere quanto è veloce? Mettici qualcosa No vabbè Ambo Incredibile Veramente È velocissima Mamma mia Come faccio? No Allora La barretta sotto Virgi Ma io voglio Tano esplosivo Ma c'è Tano esplosivo Regà Sì c'è Tano esplosivo Ah Perché a 13 c'è scritto M esplosivo Non è M esplosivo È Tano Ah è Tano È Tano Virgi È Tano È Tano Scritto M per bitare Ma poi è Tano È Tano È Tano Ecco perché non la facevano più Regà C'è stato un piccolo errore Io adesso faccio ragazzi Che tipo ogni 10 barra 15 Eh Divenziamo sempre più piccolini Tano non ti puoi salvare tanto In tutto ciò Va bene In tutto ciò Vediamo la classifica Ah Però Virgi Pure con i 300 punti Dove sei Non c'è Virgi ma le leve le vediamo Ma non c'è Se c'è primatano è imbarazzante Ah no eccola 24esima Virgi Allora Allora Virgi Qua bisogna salire eh Bisogna salire subito Hai Praticamente questa live E poi entro Il 31 C'è niente regalo Niente premio per te Mi dispiace Lo prenderebbe in questo caso Silvia Guarda Sto qui Sto qui Sto qui Sto qui Perché non ho paura Ma guarda Guarda Faccio pure il water bucket Perché Per non fare che non ho paura Vai Allora Ambo 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 Più piccoli Aspetta che mi metto qui Faccio vedere Non ti rendiamo più piccoli Vai Vado Regà Stiamo iniziando a scendere Regà Ora siamo già più piccolini Faccio pure il water bucket Per 0,43,16 Incredibile C'ero andato vicino Sì 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 Per poco Così È 54,37 Ragazzi A 69 Diventiamo ancora più piccoli Ambo Perché hai arrivato le willy Eh perché così T'ho tutto l'acqua Ragazzi Eh ma cos'è Tano 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 Allora No no Tano 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 Allora Tano Tano A parte Ragazzi Guardate un attimo C'è un problema Aiuto Ragazzi 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 Guardate che spalle Che c'ho Guardate che spalle Per la tua statura Tano Sei grosso Tano Come in ogni film C'è sempre il bro Che si sacrifica Tu dovrei prendere Tu devi dire cosa fa Quella boobs Esplode Hai presente Capodanno Allora Però a Napoli Ognuna faceva una cosa differente No no Tano 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 Questa qui Questo qui fa cazzo culo Veramente bruttissimo Vedi Tano prendi l'altro Prendi l'altro Prendi l'altro Prendi l'altro Allora ragazzi Abbiamo un problema Anzi Due grossi problemi Allora Quando la metto a terra Si resetta O riparti a dove l'ho lasciata No 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 Riparti a dove l'ho lasciata No è meglio presa L'ultimo secondo Allora Ragazzi c'è un problema Che adesso possiamo tenerla Ma non possiamo fare nulla Il problema è che se Spunto una terza bomba La dovrà prendere Ambo E poi arrivala qua Ah Ambo Prendi l'ho Prendi l'ho Prendi l'ho Ragazzi Allora ragazzi C'è un problema adesso Ora c'è un problema Che se arriva Che se arriva La quarta bomba Non può prendere nessuno Quindi se moriamo tutti Gli altri vengono droppati Riesplodono Che non le possiamo mettere Da altre parti Mi sembra Vero? No Tano Che cacchio fai? No Allora ho un'idea Forse Non so se ci riesco No no ragazzi No ragazzi Ragazzi Sto a piacere Come due Scambiamo tutte Scambiamole No Ragazzi Ragazzi Cosa è successo? Ambo Ciao C'è Fa il ponte Esploso tutto Ragazzi C'è stato un attimo Un piccolo problema Però la casa Ineterita è qua Ragazzi E' un buchetto Ragazzi Tutti i macchinari Tutti i macchinari Sono andati No Regà Una parte Una parte Eh vabbè Sono comunque andati Bisogna rifarli E la cesta qui E vabbè No Allora ragazzi Un attimo Ambo devo calcolare Quanto dobbiamo diventare Più piccolini Ma come sono arrivati A 174 Regà Vabbè Io metto Io metto ragazzi 199 Ambo Rimpiccioliscici Per altre 4 volte Ok Allora mettiti davanti a qualcosa Ragazzi Guardate quando diventiamo ancora più piccoli Aspetta 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 Metto accanto la Moai Perché mi senti diventato quanto il Moai Vai Ambo Aspetta su Ma si può ancora saltare Con quell'altezza lì Ok Ah Siamo morti Ok Quante volte lo devo fare? Eh no Vabbè Portaci come eri prima Quando eravamo prima Quindi Uno Due Ok Poi tre mi sa Perché sì Ok 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 Così quattro volte Altre quattro volte Uno Due Tre Quattro No raga non si salta un po' Non si può saltare No ragazzi Allora bisogna fare delle slab Allora Ragazzi abbiamo un problema ora Non posso raggiungere Allora slab No agli scaffolding Quattro Allora andiamo su Vai abbiamo i blocchi per salire Poi sei anche più lento Allora Raga A 190 Ho messo 190 199 Diventiamo ancora più piccoli Noi possiamo diventare piccoli Fino a un pixel Quindi siamo A sette volte Taro 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 È minuscolo Cadrà su una testa Taro Ti metto il blocco d'acqua No vabbè No vabbè assurdo Ragazzi Si è salvato Si è salvato Ma sai che secondo me Virgi grazie mille Mi sono incassato No Ok 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 No raga Allora è un problema Dimentiamo ancora più piccoli Ci siamo questi quanto al tank Guarda che hai meno range Giustamente Hai meno range per i blocchi Ragazzi Allora Dico stanto una cosa Che è Tra nove sub Vendiamo più piccoli Tra Meno di tredici Vendiamo ancora più piccoli Vediamo un attimo La classifica Come è messa Analizziamo Attenzione Perché Virgi È Diciannovesima Sta per superare Kraken Se shifti sei quantum block C'è Ragazzi Siamo Siamo piccolissimi Hai una sponda Ti dà Ok Eh sì Adesso non ci vedrà No ma che cosa Mi stai dicendo Vabbè Quindi possiamo passare Qua in mezzo Guarda Cioè tu devi passare In mezzo No vabbè Saremo abbastanza piccoli Passeremo lì sotto Capito No raga Per favore Voglio passare là sotto Vuoi diventare minuscolo Oh però Puoi saltare sui tubi Ma che figata Ragazzi Non qui Ah io direi che Sono brutti da vedere Però gli altri macchinari no Allora Ambo Allora Ambo Porco Ma non me la Vieni qua è me Non posso saltare Non posso saltare Allora ragazzi Dobbiamo diventare ancora più piccoli Di altri Tre aspettate un attimo che Come altri tre Eh perché sto facendo uno ogni quindici Ha fatto cinquanta la siamo Oh mio dio All'incirca d'occhio Certo che se qualcuno regala ragazzi Anche delle sub Dà una mano a virgi E diventiamo ancora più piccoli Ambo proceda Allora uno No Due Siamo fatto la testa E tre No Ancora meno Sopraccigli arriviamo Siamo lentissimi È tutto così grosso Allora Quando salta a malapena io Allora 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 A uno ognuno direi Io apro ragazzi Ora posso passare qua sotto No Ma io ho uno tiraggio Ma che cos'è Ragazzi apro Porca buttana Porca buttana Porca Ma ne raggiungiamo ste cose Abbiamo le mitragliatrici Le mitragliatrici Sì 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 Aspetta aspetta Spara spara Pietro di te Ehi niente Prendi questo Ah dopo ti faccio Te ne sono rimaste due in fondo Due lì Ci penso io Aaaaa Bene A me sei furbito No Tano No Ok Tano Allora Normalmente tu in Minecraft Tu normalmente in Minecraft Se cadi da tre blocchi Non subisci danno Certo Tano sali questa Sali questa scaletta E buttati Ma io mi sento Monto in alto Da qua comunque Mezzo cuore Ha perso mezzo cuore Perché aveva l'armatura Ma comunque Sono solo due blocchi Questi Ma in Minecraft È Aaaaa Prendi questo Quindi se tu A due blocchi Subisci mezzo cuore A tre ne subisci uno A quattro ne subisci uno e mezzo A cinque ne subisci due O di più Non mi ricordo No raga Ma ti ho tolto tre cuori Ok sì Allora è un blocco Ogni Dopo i due È un cuore Ogni blocco Quindi Aspetta un attimo Tano Tano Rimani fermo qua Non ti muovere Oddio Guardati Stai al centro Aspetta Oddio È intrappolato Tano in a jar Tano in a jar Tano stai fermo Mettiti in mezzo al blocco Non sono al centro Ok Copertina Momento Momento Copertina Tano in a jar No Tano Girati un attimo È di 90 gradi Ancora 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 gira 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 Ok Mi tolgo Ok Aspetta Fatto Aspetta 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 Posso rimpirla di liquido Tano Quantano one jar Dai Quantano one jar Quantano sott'olio Mettici la plastica liquida Ah ok aspetta Posso metterci questo? In che sembra piscio Eh infatti Eh infatti Ecco No Non ci aschiamo Dai raga Aspetta C'è un problema Io sono veramente dentro Cioè non posso uscire Come siete veramente dentro? Eh sì eh Aspetta 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 Tano che ci mettiamo la plastica Eh adesso Cioè ah Oh ok Ok Tano fermo Mettiti in mezzo Non si vede però Mamma mia È una cungia Era molto strana Devo dire Da qua posso uscire Da lì non riuscivo No Devi forza mettere Poi la copertina Raga Ma Se andiamo ancora più piccoli È finita comunque Sì Abbiamo ad aprire gli altri chance Cube intanto Ok Chi apre? Vai vai tu Ambo Allora aprirò Questo qua Perché mi sembra bello Vai Però prima No mamma mia Eccoci qua Ok Un po' di gambling Ragazzi Effettivamente Ho fatto un piccolo errore Dovevamo fare la copertina Vai Ok Oddio Marcus Crone No Madonna Marcus Crone Oggi parliamo di mod Ragazzi allora Questa è una mod Fantastica È la mod dei Moai Ma sono Ma sono Decorativa Marcus ma sono giganti Questi Moai Eh sì perché comunque Se sai Nelle isole di Pasqua Era la skin di Marcus Crone Sì 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 Ok 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 No perché c'aveva anche il mio coinquilino Fatta così la skin Più o meno Però era blu Il codo Vai 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 Tano tocca a te Quindi chi quello Gli apro questo Guarda 3 2 1 Tano sei veramente in su Mamma mia Tano Allora Tano Femme Fai esclusivo Il cattino Meno male che c'erano i blocchi sopra Se non andavo in giro Ragazzi Perf Raga Voglio diventare ancora più piccolo Voglio passare qua sotto Facciamo Oh un giorno facciamo una cosa La ciale Allora ragazzi Diventiamo piccoli Un millimetro Cioè diventiamo piccolissimi Facciamo una cosa Faccio un server Dove entrate tutti Che siete tutti minuscoli Con i blocchi minuscoli Tutto quanto minuscolo E vi do il tempo Vi do il tempo Una settimana Per vedere cosa riuscite a fare Bello Tutto piccolo Io vi dico State attenti Perché Perché le cadute Sono molto pericolose Se non erano prima questi Ma devono diventare Ancora più piccoli Tano Tocca a te Apri questo Dai Tano Faccio di fretta Mentre arrivano Bravo L'ho eliminato Ottima tattica Madre Eh parkour Ok Madonna Pensa a fare un parkour piccolino Le build di minitore esatto Non posso aprirlo Ok Apro Vai No No Io lo riapro Niente Ok Oh Coordinate Coordinate Perché sono buio Per Ah Un po' persone Sono sbloccato Un punto interrogativo In testa Perché Ma Oddio Eh sì Ho fatto cagare sotto La pedroca Come ci è arrivata questa qua Questo sì Questo è un problema Perché questa non è neanche distruttibile Vabbè Bisco Biscotti Vai Tano Tocca a te Apro uno nell'angolo Un villager Potremmo farci qualcosa Ma lui non esplodeva tipo una volta No No Lui è Jeffrey Ok Ok Oh no Vabbè Ragazzi sono vivo Non posso saltare Ho uno scaffolding Eh me te rilancio se ne servono altri Ce l'ho ce l'ho ce l'ho Ah no c'è lì ok Ciao Emerald Ciao No io volevo passare qua sotto Eh Posso entrare qua dentro Manca uno chance Non penso Sì adesso lo abbiamo No Però per poco eh Non si passa qua Quasi Quasi Togli questo vai vai Let's go No Mini Mini Emerald Ti può fare un giga Sono dentro Minchia sono dentro un macchinario Ma poi io non me la potrò mai togliere sta testa perché Eh perché abbiamo Vabbè Quante volte l'abbiamo fatto Eh ma Mi sa che non diventeremo più piccole Roma mi dispiace Apro l'ultimo chance cube Ok Ce ne sono altri Io non Basta Lasciamoli lì Mi rilascio Sono quanto te No Sei più piccolo te perché Sì aspetto E' più piccolo Ambo Mi ricordo quanto sono Oh Che grosso Meno Un po' 15 No No Ancora Eh sì è giusto È giusto È giusto perché c'è la testa Perché c'ho la testa Adici Ah beh è vero Ok Ok Ma raga Mancano Manca guarda caso Un'esplosione di Tano Per farci diventare ancora più piccoli Ragazzi ma mi sembra C'è Sembra una cosa da fare qui C'è Mi ricordo che più piccolo è Tano Meno possibilità di fare di water bucket perché È diminuito Quindi Però prima ce l'ho fatta Eh ma prima sei stato Gamer Ragazzi Sono fatto Devo ritornare minuscolo Ambo Ok quindi Così ho fatto Così quindi è Così Ok Vediamo se sono un calcolatore Mi sono in piccolo Sono proprio un calcolo Mi sono in piccolo Ho letteralmente subito E Ragazzi io vi ricordo che comunque passerò anche 9 sub No ragazzi Tano Con il controllo mentale No vabbè Braccia comunque Hai una mosca in mano Sono cannoni questi Sì ma vedi cosa hai in bocca M Ti rendi conto? È bellissimo Corciuccino Tanto è un kid È un bambino Mamma mia Ti sparo Fallo Fallo No 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 Il mini bambino con la minigun L'ho scordato Il mini bambino con la minigun Tano Ti rendi conto che la tostata è più grossa di te? È vero Sembra gigante Questo qua è arrivato e sta già lavorando Guarda Assurdo È mio padre Suo padre È un lì di puzzano Guarda qua dietro sano c'è il tuo padre Scemo Guarda è ancora brillo Incredibile No Tano ma che cazzo? Tano Ma si fanno ste cose Un po' di cose Ho anche il biberone in inventario No questo qua Tami una bottle Vabbè Ragazzuoli Mi sa che non diventiamo più piccoli Vediamo se ci sono gli altri per CS Se no Chissà se un giorno diventiamo veramente minuscoli 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 Peccato perché Con un'esposizione di tana si faceva due in uno Eh vabbè Non si può comunque avere tutto Eh già Aiuto Mi dispiace Aiuto Ciao Pit Posso tipo baggare Annego lo fai Ma come annegano Facciamo il giochino a ciao Darwin Ogni risposta sbagliata lo anneghiamo Eh vai fammi domande No non è per me Non è per me Non sa fare Non abbiamo più nemmeno l'acqua in verità No non sei veramente Ma non abbiamo più nulla L'hai elevatato Hai la transmutation Non ce l'ho io Non ce l'ho io E' laggiù E va cammina Io camminare Vabbò Chat Grazie mille Soprattutto a Virgi Per le donation finali Che A nostra volta un attimo La serata Quanto pare Siamo in minuscoli Peccato che dalla prossima live Ci resetteremo Naturalmente Però Se verranno fatte all'inizio Capite bene Quanto Difficile sia per noi Poi andare avanti Soprattutto in combo Anche con le sub E tutto Ecco Detto questo Detto questo Ragazzuoli Mo' su CS Io lancerò delle sfide Che vi permetteranno Di avere dei punti extra Per le top Per la top anzi Quindi Ringraziamo Ambo in a jar Per la compagnia E Io direi che Possiamo andare Su CS Tano E' il momento di sparare Seriamente E allora andiamo Let's go Bye bye ragazzi Ciao 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 ciao